iniziamo con una bella panoramica della valle per andare su cristian che mi ha chiamato con un mega sorriso 32 denti o 31 non mi ricordo 32 sempre scherzo dai andiamo a vedere allora bel segnale alto si intravede già la moneta secondo me è argento si secondo messi colore chiaro prima moneta della giornata ragazzi 200 lire dal mare alla montagna ragazzi e qua sul sentiero al primo colpo c'è questa un euro lo trovate spiagge le trovo anche qua pensate un euro ragazzi quasi in caffettino che oggi dai va bene gli amici sono la parte eccoli la sono su una vecchia mulettiera al secondo segnale prima ho trovato l'euro e qui c'è ho già guardato come si può vedere l'ho già pulito è un quattrino di milano si vede qualcosa almeno da una parte vedere si intravede qualcosa dell'intero sono difficili da trovare questi qua ok soddisfatta ragazze andiamo in buca anzi fuori buca è uscito è un oggetto strano sembrava un proiettile invece forse forse ho capito qui ci dovrebbe essere un filetto sì mi sa che dovrebbe essere l'impugnatura di un rasoio penso di sì penso di sì sì qua c'è un filetto sì c'è un foro comunque ve lo farò vedere pulito ma dovrebbe essere un impugnatura del rasoio sì avanti ragazzi ragazzi sono le 3 le 15 siamo entrati in questo boschetto al fresco perché sotto il sole fa ancora caldo christian mi ha chiamato perché ha detto che ha trovato una moneta una moneta allora è qui che si guarda si vede già la rotondità ho tribulato tirano fuori perché era sotto la radice e di cosa si tratta c'è un 2 perciò è una grattatina e vedo da qua un pochino è perché era sotto la radice ho tribulato tirano fuori inizio a vedere qualcosa c'è la bandiera svizzera la moneta svizzera la moneta svizzera bella e il vetia anno 1800 no ci deve essere ci deve essere bene evidenza io non riesco a vedere magari inquadra la tua 1880 e 1880 e di qua c'erano cristian di qua c'è è un 22 qualcosa due franchi sarà c'è due centesimi bella l'hai stato appena e ragione era sotto la radice perché sotto l'alberello il target è sempre bello avanti ragazzi fibbiate ragazzi intera nella purtroppo devo ritornare nel nel prato perché il bosco non dà niente e qui bene o male qualcosina si trova si va avanti dai sotto il sole ancora caldo non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Intero, in superficie ho aperto, passato, ho trovato così come l'avete vista. Finirà nella mia collezione. Andiamo in buco, ragazzi. Bucchettina e targhettino. E sembrerebbe un bel bottoncino, un bel bottone lavorato. Eh sì. Carino questo. Sarà un bottone vandeano? Solitamente i vandeani hanno disegni floreali. E questo sembrerebbe uno di loro. Però rimaniamo nel dubbio. Ragazzi c'è, credo che sia, una votiva intera con l'apiccagnolo. Con un disegno particolare, una forma particolare, rare da trovare, integre. Questa penso che una volta pulita bene finirà nella mia collezione. E sì. Sempre in questa zona c'è qualcosa qua, non ho ancora guardato, che sembra un bottone. No, sì, è un bottone però. No, no, no. Non è neanche un bottone. È tipo una rondella, però questo è un pezzo di lamiere rotondo. Ci avevano piantato un chiodo, l'hanno usato come rondella. Sì, il colore è chiaro, vedi? Eh, sì. Ah, ho già capito. Sì, sì. Sembra. Uè, ma questa è bella, cacchio che bella. È un buono, bello. Ma dai. A che qualità fischia? Porca miseria. Bello. Ragazzi, guardate che spettacolo. Ah, che c'era data? Mille... Non ha un segno di corrosione, ragazzi. 1928. Spettacolare, questa è una. Ah, ha 100 anni. Da collezione, ragazzi, guardate che roba. Bella. Buono da... Bravo, Cristian. Del colpo. Scusate che la puliamo un po'. Buono da lire 1. Stupendo. Bello. Una bella moneta. Guardate che roba. Non è argento, però. No. Ma fa niente. Però te, che bel materiale. Cacchia te, non c'è, ripeto, non c'è un segno di corrosione. Non è facile trovare così. Ma le facevano bene. Niente. Niente. Bravo, Cristian. Baparazzi. Scusate che fai sicuro.